Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Mirko e Alice e bentornati sul nostro canale Che cosa facciamo oggi Mirko? Oggi ragazzi faremo il video più cringe del canale Siccome Alice ha un canale personale di TikTok che è questo qui, oltre a quello della coppia che scoppia Siccome io reputo veramente imbarazzanti i video che fa, ho deciso di replicarli e renderli appunto ancora più imbarazzanti E quindi proprio mi rendi ridicola allo stato giuro No, secondo me rendo ridicolo me stesso, non ti preoccupare Allora, il video in questione, adesso noi ne andremo a esaminare uno e poi io lo riprodurrò Ne andremo a esaminare un altro e poi lo riprodurrò e così via fino alla fine Allora, iniziamo a vedere il primo TikTok, cringe Ok Sono bravissima Per vedere tutto Io li trovo veramente inutili Non me lo posso permettere Bellissima questa canzone Ok, basta perché poi il copyright ci distrugge la vita Sì, infatti Questi ragazzi sono i classici TikTok proprio quando uno non sa cosa fare, che si mette lì Non hanno utilità, non hanno senso, sono stupidi e sono ridicoli e per questo ragazzi io li renderò meravigliosi Andiamo a girare Allora Ok, vai 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 Sono caldissimo Qua siamo in azione, via No, non faccio così E poi è meglio, quando dici è meglio metti così Ci sono, ci sono Vado No Non me lo posso permettere Cioè guardate, non sa una parola Una parola Bene ragazzi, il primo TikTok è andato, passiamo al secondo Quanto ci dà fastidio sta catenella? Tanto perché c'hai sto laccio qua? Bellissima, ce l'hanno tutti e ce l'ho anch'io Allora, vediamo subito il secondo TikTok Via Vai Eciù Oh madonna mia Che banale, che banale Niente praticamente devo fare così, starnutisco e poi vado al mare Cioè è bellissimo, io ero sull'aereo per Tenerife e ho fatto eciù Cioè quindi dobbiamo andare fino al mare per sta cacata qua? Sì Andiamo Raga questo è semplicissimo Mascherina E faccio eciù E poi sono al mare Mettimi play Tre, due Fa vedere, fa vedere come sei Ci siamo Vai Perfetto Terzo TikTok ragazzi, via Cioè lì c'è già con questa cosa qua, con questo casco Ok E quindi? Ho fatto la permanente Wow Bello, bello, questo qua è carino Eh avevo i capelli lisci Ho fatto la permanente, ho lavato i capelli e ce l'ho ricci Ok, questo sarà molto difficile poiché io non possiedo di capelli E quindi vedrò che cosa riuscirò a fare Dai andiamo Cioè io adesso voglio proprio capire come Mirko farà il mio cambio look nel TikTok Perché io in teoria qua cambio capelli Cioè tu cosa hai intenzione di... Non ti preoccupare So cosa fare No ma io non ho parole Prendo un asciugamano sicuro Però il problema è che lui non ha capelli Mi ha sentito? Mi ha sentito e fa finta di niente Ma cosa fai? Cosa fai? Ti aiuto dai ti aiuto Fatti aiutare va Firletto Sai cosa sembri? Quelle donne di una volta che andavano nelle risaie a mietere il grano Ma sai cosa devi fare qui? Sì 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 vado Dai Ho postati però Ah scusa Vado Ok aspetta Cosa fai? Ci sono Adesso voglio proprio capire che cosa porta fuori Abbiamo un ragazzo pieno di risorse Comunque qua ci troviamo all'Oasy Park Vidiano Marina Che ci ha gentilmente concesso la sua location Che è proprio bella 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 Hai fatto una riga in mezzo Che scemo Vai cara Quarto tiktok Alice con una bellissima camicia a quadri Vediamo Cominciare Ed è tutto più bello Se lo vedi da qui Devi fare anche così con le mani eh Ma è cringe ragazzi Ma è vero che è cringe Ma dai ma questi qua che tiktok sono? Non c'è la qualità capito? Ci sei tu che canti Boh così E quindi E quindi lo fanno tutti sotto la doccia Non vedo perché uno debba farlo su tiktok Cosa cambia? E andiamo a farlo Mirko sta imitando il mio tiktok in cui ho la camicia bianco e nera a quadri Vabbè non è bianca e nera Guardate che panzotto che ha Ma quello la sparirà molto presto Ecco quanto lavoro c'è dietro un tiktok E veramente Però c'è da dire che in un'ora fai dieci tiktok Sfido chiunque invece a fare in un'ora dieci video di youtube No così E' giusto? E' bravo Vai 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 E' giusto? E' giusto L'ho fatto uguale Sembra vino a wink Trecenti Ragazzi nuovo tiktok quando ti senti cenerentola a mezzanotte Vediamo che cacata Un'ultimo ballo Un'ultima ora Un'ultimo sole per lui Ma cosa vuoi? Cioè tu presente ti senti cenerentola in questo tiktok? A me sai cosa sembri? Non te lo dico Cosa sembro? Shhh Tutto o meno che cenerentola sembri Cioè voi vi rendete conto di quanto è cattivo Comunque Andiamo a fare questo tiktok cenerentolesco Sì e come ti metti il vestito scusa? Sei per caso dicendo che sono grasso e non entro nel vestito? Sì Ah sì? Vediamo No ragazzi non avete idea Che cosa? L'ultimo deve mettersi un mio vestito me lo rovina Sì facile Raga questo è troppo bello mi devo mettere questa felpina Qui faccio così giro E mi metto il vestito di Alice Sperando che nessuno nei bungalow qui accanto mi guardi Cioè ragazzi Questo qua va stretto a me E' attillato a me Vai Sì vado Perfetto No mi me lo rompi Ma che ti rompo Ma hai stato detto? Ma figurati se lo rompo Ma sono un peperino io Un madonna Ma guardate sto coglione Ma perché mi cadono le spaline? Oh ma è caduta la spalina Ragazzi c'è tutta la spalla pelosa Più scusami Ahahahahahahahahahah Per tutti i pelazzi Ahahahahah Sei guardabile Fallo fallo sta parte Ok vai Vada Ma concedimi un ultimo fallo Un'ultimo rami Un'ultimo rami Quanto stesso gioco Per andare fuori Per andare fuori Orribile 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 Cioè ma c'è qualcosa che ti piace nella linea? Ehm Si non questi tiktok Cioè di questo forse l'unico carino è quello dove tu fai così e poi c'è la tinta tutta stana Vabbè Andiamo a farlo Schiena Per portarti dove vuoi Dami Non farlo più è sta cosa Stessa dimensione Stessa lontananza Uguale deve essere Si si Io però Ah no è giusto Giusto Vai 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 Per portarti dove vuoi Per andare fuori a cena Per non andare fuori noi Bello Spettacolo raga Bravissimo comunque Bene ragazzi il video di oggi finisce qua Ringraziamo l'Oasi Park di Diano Marina per averci fornito la location Per girare questo video Intanto Alice sta morendo quindi addio il canale chiuderà e niente Oh raga No eh Non lo sapete No Che abbiamo aperto un canale gaming Ehi che aspetti? Iscriviti anche tu al nuovo canale gaming Dove non ci sono video Fallo anche tu Ciao ragazzi Al prossimo video Ciao ragazzi Lascia un commento Metti mi piace Cosa ti costa dai che sei gammaggio La coppia che scoppia Se il video ti è piaciuto Lascia un commento e iscriviti al canale La coppia che scoppia Sono come noi La vita di coppia Vissuta da eroi La coppia che scoppia È un'esplosione Mirko ed Alice Dentro al nostro cuore Ah